Nel cuore di Corigliano, lungo via Moncenisio, racchiusa in un piccolo parco che ne protegge l'integrità, è possibile ammirare una delle specie arborie più suggestive di tutto il Salento rurale, la Quercia Vallonea, appartenente alla famiglia delle fagacee, come il faggio e il castagno, alta circa 15 metri e con una chioma di ben 20 metri di diametro. La Quercia Vallonea, proveniente dal Medio Oriente e che oggi è possibile ammirare solo nel Salento, era considerata in passato quasi un albero sacro, un monumento alla natura e alla bellezza, non solo per la sua storia senza tempo, ma anche per l'importante ruolo che aveva nell'economia locale. Dalle grandi ghiande, infatti, si ricavava il tannino, una sostanza utile nell'attività di produzione del cuoio, un tempo molto diffusa nel Salento.